Quello di una cultura, Floris, prima ancora di un atteggiamento politico, la cultura è l'atteggiamento mentale col quale affronti la politica, non so se mi spiego. Ecco, non ci siamo. Prova a interpretarla. Non è tanto il cosa fare, ma anche l'umiltà di chiedere in giro che cosa devo fare. Mi tratta come la slime, mi traduce il linguaggio corretto. E allora io però le rivolto il problema.